La rivoluzione è possibile, Palazzo Campanella approva in un'unica seduta i nuovi piani dei trasporti e dei rifiuti, passa all'emendamento per la realizzazione dell'aeroporto della siberitide e si punta al 65% della differenziata entro il 2020. Si parla di svolta epocale ma non mancano le voci fuori dal coro per Carlo Guccione, PD si tratta di slogan. Vivo al voto, sono 441 gli amministratori chiamati a rinnovare il consiglio provinciale, 30 i candidati distribuiti su tre liste per dieci posti. La nuova assemblea rimarrà in carica due anni, urne aperte fino alle 19 di questa sera. La Col di Retti promuove il 2016, in occasione del dodicesimo forum regionale di Amantea, il presidente Molinaro ha tracciato un bilancio più che positivo dell'anno che sta per chiudersi, parlando di un settore in ascesa e ricordando l'istituzione dell'etichettatura di origine del latte e dei suoi derivati. La Calabria è generosa, la nostra regione ha partecipato attivamente alla maratona Teleton dedicata alle malattie genetiche, raccolti 170.000 euro che serviranno per finanziare la ricerca, raccolta più alta nella provincia di Catanzaro, al secondo posto Cosenza. Tra gioie e dolori si chiude il sipario sul girone d'andata del campionato di Serie D. Nell'ultimo turno sorprende il Castro Bilari, che fa suo il derby con la Palmese. Solita sconfitta per il Assersale, chiude l'anno con un K.O. anche Roccella. Appunti in rende. Edizione delle 14 del nostro giornale. Buongiorno De Emilia Canonaco. Questo è lo spazio della C dedicato alla informazione. In apertura subito una notizia che non ha trovato spazio nella nostra copertina perché l'abbiamo appresa soltanto pochi minuti fa. Una notizia che arriva da Cosenza con la procura della Repubblica Bruzia che ha iscritto nel registro degli indagati 142 persone. La vicenda giudiziaria, vi ricordo, è quella relativa ai precari dell'Asp Bruzia che sono stati stabilizzati alla vigilia delle elezioni regionali del 2014. Tra gli indagati ci sono quasi tutti gli assunti, quelli dell'elenco trasmesso dall'Asp alla regione. Poi una serie di dirigenti e funzionari tra cui l'ex DG Scarpelli, l'ex direttore amministrativo Palumbo e il direttore del distretto di Rogliano Antonio Perri. La posizione più grave al momento sembra essere quella di Francesco Mazza, sindacarista dell'UGL per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. Ulteriori aggiornamenti su questa notizia nel corso delle prossime edizioni del giornale. Per il momento voltiamo decisamente pagina, seduta molto proficua, quella di Palazzo Campanella. Sono stati infatti approvati i piani per i trasporti e per i rifiuti. Da più parti si parla di una svolta epocale ma non mancano le posizioni critiche come ad esempio quella di Carlo Guccione, consigliere regionale del Partito Democratico che si esprime con toni molto duri e dice si tratta soltanto di slogan. Per quanto riguarda i trasporti, passato l'emendamento per la realizzazione dell'aeroporto della Sibaritide, mentre in tema di rifiuti si pensa di poter chiudere presso tutte le discariche e di raggiungere quota 65% della differenziata entro il 2020. Ma facciamo subito il punto. Gli strascichi del referendum, come del resto era inevitabile, si sono presentati in Consiglio regionale. Nel centro-sinistra le acque si mantengono agitatissime. Da un lato Flora Sculco, dall'altro Carlo Guccione hanno stretto d'assedio il fortino del governatore. Osservazioni e critiche sia sul piano regionale dei rifiuti che su quello dei trasporti poi approvate a maggioranza. I colpi di Guccione sono stati più duri. L'ex candidato sindaco di Cosenza ha bollato il piano dei rifiuti, sul quale si è poi astenuto, come un libro delle chiacchiere. E per spiegare il concetto si è richiamato alle parole di Renzi e l'Assemblea nazionale del partito. Quando si sta troppo tempo dentro i palazzi, ha insistito Guccione, si perde il contatto con la realtà, una modalità evidente per tornare sul notabilato attaccato dall'ex Premier. Oliverio non ha per nulla gradito e ha fatto tremare il palazzo con i decibel della sua voce, che illustrava punto per punto i singoli interventi dell'Aggiunta e le chiusure di diverse discariche, nonché il potenziamento della raccolta differenziata, che dovrebbe arrivare al 65% entro il 2020. Il centrosinistra e il PD si sono poi incartati nuovamente sulla legge in materia di aborto presentata da giudice Andrea, che è stata rinviata. Anche i rapporti con il nuovo centrodestra sembrano essere differenti rispetto alla prima parte della legislatura. I consiglieri regionali di Alfano si sono astenuti sul piano dei rifiuti e tramite baldo esposito hanno chiesto moltissime spiegazioni sulla normativa presentata da giudice Andrea. Un segnale che va in contraddizione con la sintonia sempre maggiore tra Alfano, attuale ministro degli esteri, e il PD di Renzi e che va letto come il frutto della lacerazione che sta attraversando il partito calabrese sempre più scontento della linea di Alfano. Riccardo Tripepi per la CNews24. E urne aperte a Vivo Valencia per il rinnovo del Consiglio provinciale al voto 481 amministratori di 46 dei 50 comuni della provincia, perché vi ricordo che 4 sono commissariati, si vota fino a stasera 30 candidati spalmati su tre liste per 10 posti liberi, gli eletti rimarranno in carica per due anni. Ascoltiamo. Seggi aperti fino a stasera nell'aula consigliare dell'amministrazione provinciale di Vivo Valencia per eleggere il nuovo Consiglio. Resterà in carica il presidente Andrea Niglia, il cui mandato scaderà tra due anni. Sindaci e consiglieri dei 46 centri del Vibonese andranno ad eleggere i 10 consiglieri provinciali. Restano fuori dalle consultazioni gli amministratori dei quattro comuni commissariati, Tropea, Nicotera, Filandari e Nardo Di Pace. Tre le liste in campo. Il Partito Democratico, ispirato dall'area maggioritaria del Partito Vibonese, incarnata dal deputato Bruno Censore. Provincia unica, nata dall'alleanza tra l'ex presidente dell'ente Francesco Denisi con l'attuale presidente del Consiglio Comunale di Vivo, Stefano Luciano. e la lista denominata Centro-Destra Vibonese, nata su spinta del consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. Solo in serata si saprà la nuova composizione del Consiglio provinciale, un voto che, secondo il presidente Andrea Niglia, potrebbe rappresentare la svolta per un ente indissesto. Sono degli enti che erano stati portati alla morte, ma subito dopo il referendum speriamo che ci sia una ripresa immediata delle province. Mi auguro che questo nuovo Consiglio possa di nuovo avere le condizioni di poter farla ripartire, questa provincia, per il futuro, ma non solo della provincia, ma dell'intera comunità vibonesi. Cristina Iannuzzi per Raccinews 24. Ed è il voto in corso per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vivo Valenza. Scusate, si occuperà la puntata odierna dei fatti in diretta. Buongiorno a Pietro Comito. Ti passo subito la linea. Grazie cara. Appuntamento alle 14.30. Avremo ospiti in studio il segretario generale della provincia di Vivo Valenza, Cesare Pelaia, che ci spiegherà come funziona questo voto così singolare, un voto introdotto grazie alla riforma del Rio che cambia la dimensione delle province che si affacciano ad un futuro territoriale in cosiddetta area vasta. E poi ne parleremo anche con il segretario generale della CGL di Catanzaro, Raffaele Mammoliti, che è un vibonese e che a suo tempo, quando l'elezione dei consiglieri provinciali era appannaggio ancora del popolo, era addirittura in predicato di essere candidato alla presidenza dell'ente. Poi collegamenti con la sala del Consiglio provinciale, insomma, tanti servizi. Ne parliamo oggi, subito dopo il telegiornale. Grazie Pietro, a te l'augurio di un buon lavoro. Beh, le province ce le dovremo tenere visto quello che è stato l'esito referendario. Passiamo adesso alla cronaca. Una brutta storia arriva da Catanzaro dove nel tardo pomeriggio di ieri un ragazzo di 28 anni, Gianluca Cardone, è stato investito, morendo sul colpo mentre attraversava la strada sulla centralissima via Magna Grecia. Un tranquillo lunedì di dicembre, uno come tanti, si è trasformato improvvisamente in tragedia. Erano le 18.30 circa di ieri sera, quando su Viale Magna Grecia, nella zona sud di Catanzaro, in particolare sul cavalcavia che collega il rione Aranceto e il quartiere Fortuna, un giovane di 28 anni, Gianluca Cardone, è stato investito da una Fiat Panda mentre transitava a piedi. Il ragazzo è deceduto sul colpo. Immediato l'intervento della Polizia Municipale, dei Carabinieri e dei medici del 118 che non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso della giovane vittima. Sembrerebbe che il ragazzo stesse camminando lungo la strada, ma non è chiaro ancora se la stesse attraversando. L'incidente è avvenuto in un tratto di strada privo di illuminazione. Rossella Galati per la Cineus 24. Lasciamo la cronaca per occuparci di agricoltura. Parliamo nel prossimo servizio di Coldiretti, che ha celebrato ad Amantea il suo dodicesimo forum regionale. Se vale la recente tendenza della New Economy, in base alla quale il settore agricolo sarà trainante per l'intera economia, allora proprio la Calabria, definita con l'inflazionato termine di fanalino di coda dell'Europa, potrebbe invece riprendere rapidamente quota e diventare, al contrario, una punta di diamante nel panorama nazionale. Ma le sue potenzialità agricole potrebbero aumentare notevolmente solo se verranno attuati giusti investimenti e sfruttate finalmente al meglio le risorse comunitarie. Del resto la Calabria sembra avere tutti i requisiti per fare questo salto di qualità. È quanto sostanzialmente è emerso il dodicesimo forum regionale dell'agricoltura e dell'alimentazione organizzato dalla Coldiretti. Il presidente Molinaro ed il direttore Francesco Cosentini hanno fatto gli onori di casa ad una platea di addetti attenta e molto interessata a capire soprattutto quali saranno i prossimi passi che la regione vorrà fare per sfruttare al meglio le opportunità del PSR, avendo come barra i concetti di multifunzionalità e di innovazione delle imprese agricole. Il presidente Mario Oliverio ha rassicurato tutti, parlando di risorse importanti, che dovranno essere spese non appena i bandi saranno chiusi. Fine gennaio e tutto potrà partire, con la raccomandazione della Coldiretti di portare avanti sì l'obiettivo della spesa, ma di tenere sempre ben presente la necessità di una nuova cultura degli investimenti. Sonia Rocca, la CNews24. Rimaniamo da Mantea perché il presidente regionale di Coldiretti, Pietro Molinaro, riferendosi al 2016, ha parlato di un anno ricco di importanti conquiste, tra tutte l'etichettatura di origine del latte e dei suoi derivati. Ascoltiamo anche le parole del governatore Oliverio. Intanto risultati importanti già nel 2016, che ovviamente abbiamo voluto condividere con le istituzioni presenti, soprattutto tra di noi, imprenditori e dirigenti di Coldiretti, per avere la forza di poter riproporre ulteriori sfide nel 2017. Sicuramente resta ancora tra le sfide da compiere la battaglia sul grano, quindi l'origine su tutto il grano italiano, affinché nella pasta e nei prodotti da forno ci possa essere l'origine vera e la tranquillità per i consumatori. Ma soprattutto stiamo chiedendo all'istituzione di incrementare in qualche modo la risposta, puntando soprattutto sulla velocità e sulla semplificazione amministrativa. Sono due temi molto cari alle imprese, soprattutto quelli giovani, perché è chiaro che un giovane che investe in agricoltura non può avere tempi biblici per alcune risposte. Il settore alimentare nel corso di questi anni, anche nel periodo degli anni della crisi più acuta, è stato quello che più ha retto e nel corso di questi ultimi periodi è quello che appunto sta imprimendo alla ripresa, sta imprimendo la marcia giusta. Noi abbiamo programmato risorse importanti per quanto riguarda il settore agroalimentare attraverso il PSR che già in fase operativa sono stati già pubblicati un bel pacchetto di bandi in varie direzioni, in direzione al sostegno alle imprese, in direzione della inclusione dei nuovi insediamenti di giovani nel settore agroalimentare, in direzione dell'infrastruttura volto ai comuni, ai consorzi di bonifica. E per l'agricoltura calabrese le buone notizie non finiscono fa. Questa mattina infatti la Commissione europea ha approvato la domanda di registrazione nell'elenco delle indicazioni geografiche protette IGP dell'olio di Calabria. L'extravergine d'oliva ottenuto da olive coltivate nella regione Calabria nel sud Italia, si legge in questa nota di Bruxelles, negli ultimi anni ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali. Con l'olio di Calabria IGP salgono così a 291 i prodotti alimentari italiani tutelati da Bruxelles come parte del DOR, il registro che contiene 1380 specialità gastronomiche, DOP, IGP e STG. Occupiamoci adesso di contrasto alla povertà. Ci sono delle misure pensate dall'amministrazione comunale di Cosenza. Tra queste l'aumento delle ore lavorative in seno alle tante cooperative sociali, il potenziamento dei servizi destinati agli anziani, più risorse per l'emergenza abitativa e buoni pasto una tanto. Una fetta consistente dei fondi dell'agenda urbana spettanti al comune di Cosenza sarà destinata dall'amministrazione al sostegno di progetti specifici per il contrasto alla povertà. Queste ed altre misure sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa presieduta dal sindaco Mario Occhiuto, alla quale hanno partecipato l'assessore fedele Bisceglia e la dirigente del settore welfare Giuliana Misasi. Palazzo dei Bruzzi pensa all'affidamento di nuovi servizi di spazzamento per le cooperative sociali, per far lievitare le ore lavorative e di conseguenza gli stipendi dei dipendenti. Nell'immediatezza saranno erogati due buoni spese da 50 euro in favore dei nuclei familiari indigenti. Tra le altre misure anche il riordino del sostegno alle emergenze abitative per veicolare le risorse disponibili alle famiglie veramente bisognose, l'innalzamento del reddito ISEE per accedere alla fascia di esenzione del servizio per la mensa scolastica e l'erogazione di voucher per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il comune di Cosenza inoltre è destinatario di un finanziamento di oltre 3 milioni di euro erogato dal Ministero delle Politiche Sociali da destinare le azioni in favore di nuclei familiari in stato di povertà. Confermiamo l'intervento che abbiamo fatto nell'anno scorso nella distribuzione dei buoni spese alle famiglie bisognose che ammontano a due buoni di 50 euro per questo periodo latarizio. Salvatore Bruno per la CNews24. Questa che abbiamo appena ascoltato dunque in sintesi l'ossatura delle politiche sociali di Palazzo dei Bruzi ma il vicino comune di Rende non sta certo a guardare. In attesa della ridefinizione della giunta comunale di Rende l'attività amministrativa non rallenta il suo operato e porta a compimento i programmi avviati. Nel campo del sociale sono stati presentati ai cittadini il taxi sociale e la nuova ala notturna della casa di riposo Casa dei Fiori. Due risultati raggiunti nonostante l'insufficiente disponibilità delle casse comunali e l'importante collaborazione tra pubblico e privato. Il taxi sociale istituito in Calabria per la prima volta dalla città di Rende ovvero un Fiat Ducato a nove posti consegnato e incomodato d'uso gratuito è stato possibile grazie alla generosità e alla sinergia degli operatori economici presenti sul territorio. Nella stessa giornata il taglio del nastro dell'ala notturna di Casa dei Fiori da parte del sindaco di Rende, grande folla per l'inaugurazione della casa per anziani data in gestione alla cooperativa solidale. Erano presenti all'inaugurazione oltre all'assessore Eda Bozzo, la signora vitale della cooperativa solidale e testimone all'eccezione il campione di pallannuoto a Mauriz Perez. La struttura utilizzata solo in parte e come centro di urno è stata sottoposta al lavoro di riqualificazione per eliminare le barriere architettoniche esistenti creando nuovi servizi per i disabili. La Casa dei Fiori, situata nel cuore di Rende, garantirà a tutti gli utenti che verranno ospitati una condizione di vita ottimale fornendo servizi ulteriormente integrati a quelli già attivi affidati per la gestione alla cooperativa sociale La Solidale. Fiorenza Gonzales per la CNews24. Ed in tema di solidarietà la Calabria non ha fatto mancare il suo sostegno alla maratona Teleton destinata alla ricerca contro le malattie genetiche. Nella nostra regione raccolti circa 170 mila euro, la provincia di Catanzaro quella più generosa seguita dalla provincia di Cosenza. Noi abbiamo appunto documentato una iniziativa che si è svolta a Rende. Quasi 171 mila euro raccolti in Calabria di cui 43 mila in provincia di Cosenza a sostegno della raccolta del Teleton. Diverse le manifestazioni organizzate sul territorio per alimentare le risorse da destinare alla ricerca contro le malattie genetiche. Ancora una volta la BNL è stata partner dell'iniziativa, ospitando nelle proprie filiari esibizioni e altri momenti di spettacolo. Il rapporto da BNL e Teleton è storico ormai. È da 25 anni che BNL è al fianco di Teleton e la raccolta fondi per le malattie genetiche rare. È un rapporto profondo, è un rapporto concreto, è un rapporto vero. Tutti noi colleghi siamo impegnati per dare un contributo, per dare una mano per la ricerca che è una ricerca che vuole aiutare persone veramente sfortunate, doppiamente sfortunate perché oltre ad avere una malattia importante hanno una malattia rara. Teleton, la fondazione Teleton si occupa proprio di queste persone per dare loro una speranza. Salvatore Bruno per la Cineus 24. E cosa significhi convivere ogni giorno e ogni notte con una malattia genetica, nel suo caso la distrofia muscolare? Lo sa bene Antonio Saffioti, vicepresidente Fisch per la Calabria, che alla malattia ha dedicato un libro dal titolo Chi ci capisce è bravo. È un'occasione questa di oggi di presentare questo libro che vuole avvicinare le istituzioni ma anche i cittadini al mondo delle disabilità, raccontato da chi la disabilità l'ha vissuta in prima persona come malato, dalla madre, dal padre, dalla famiglia, in tutte le sue sfaccettature. E sinceramente ci ha tenuto molto a fare questa presentazione coinvolgendo anche persone come Michele Mirabello che è presidente della commissione consigliare in materia di salute, insieme a Nunzia Coppedè della Fisch e insieme a Giulia Veltri che si sta occupando insieme a tante altre persone come me, nel nostro piccolo, ognuno per la nostra parte per rompere le barriere anche culturali, anche quel tabù che stesse volte c'è stato per quello che riguarda le materie delle disabilità. Il libro racconta principalmente una bella storia di vita, non è di certo una storia triste, ma è una storia ricca di positività. Questa è stata la cosa principale che abbiamo voluto fare nello scrivere il libro, essere positivi. La differenza è la nostra piaga, è la piaga del nostro tempo, ma noi cerchiamo di combatterla in tutti i modi. Questo libro può essere utile sia alle disabilità, ma anche a chi non vive una disabilità, che può capire quali sono le cose importanti della vita e poi il significato del non abbattersi mai. Rossella Galati per la Cineus 24. E quello che non manca certamente a queste persone, spesso piccolissime, è il coraggio. Beh, adesso tiriamo un po' il fiato, lo facciamo con la pagina degli spettacoli. A Cedanzaro è creato il sipario sulla Festival d'autunno. A chiudere la quattordicesima edizione, Gino Paoli e Danilo Rea. Uno spettacolo intimo, essenziale, la voce inconfondibile, quella di Gino Paoli, un pianoforte suonato in maniera straordinaria da Danilo Rea. Sono stati loro i protagonisti dell'ultimo appuntamento della quattordicesima edizione del Festival d'autunno al Teatro Politeama di Catanzaro, diretto da Antonietta Santa Croce. Due come Noi che è il titolo dello spettacolo, che diventa incontro di generazioni diverse, unite dalla musica senza tempo, firmata Gino Paoli. I brani, pur essendo noti a tutti, diventano ogni volta nuovi, grazie alle incursioni pianistiche di Rea e alla voce di Paoli, che ad ogni brano regala un tono, un'interpretazione. Un gioco a due per un pubblico proveniente da tutta la Calabria, grande intesa e complicità musicale tra i due artisti che raccontano l'amore, l'amicizia, la vita. Si parte con una furtiva lacrima per passare a brani come O sole mio, l'immancabile sapore di sale, Io che amo solo te, ritornerai, e ancora una lunga storia d'amore, passione, reginella, vedrai, vedrai. E senza fine il brano con cui Gino Paoli saluta Catanzaro, quasi un modo per confermare che la musica farà sempre parte della vita di ognuno. Rossella Galati per la Cineus 24 Ora lo sport, il calcio, come ogni martedì, facciamo l'appunto sull'ultima giornata di Serie D. Il Castrovilla rivince il derby all'Opresti e manda in vacanza la Palmese a mani vuote. Poker degli ospiti e ultima giornata amara per i Neroverdi. Non va meglio a Rende, finisce uno pari contro Gragnano. Passata in svantaggio allo scadere del primo tempo, la squadra di Trocini riaggancia il risultato grazie alla rete di Ferreira, ma dopo vari tentativi il risultato non cambia. Il Rende impatta sul muro avversario, sprecando le occasioni di a gol che avrebbero potuto regalare l'intera posta in palio. Il Rende chiude comunque in terza posizione. Trasferta amara per il Roccella che torna sconfitto da Caserta. Il Gladiator rinasce e ritrova la vittoria dopo oltre un mese contro i Calabresi. Tutto facile dunque. A risolverla, una rete di Anzalone ad inizio ripresa. Certo, la partita sarebbe potuta finire anche con un distacco più elevato. Ennesimo K.O. anche per il Sersale, che chiude questo girone di andata con un'altra sconfitta di misura. Questa volta a punire Giallorossi ci pensa la Cavese. Maria Chiara sigillò per la CNews24. Andiamo ad ascoltare le dichiarazioni dei tecnici di Castrovillari e Palmese. Mi urge chiedere scusa a tutti coloro che hanno visto la partita, a tutti i tifosi palmesi, perché onestamente sia il risultato, credo che sia stato un risultato umiliante per noi. E di questo non ci dobbiamo nascondere assolutamente dietro il dito e assumerci tutti quanti le responsabilità. Quindi io per primo come tecnico, poi la squadra stessa. Noi credo che ormai in questo girone di andata abbiamo consolidato il fatto che troviamo delle serie difficoltà con delle squadre che non ci fanno giocare, con delle squadre che stanno nella loro propria metà campo e poi ripartono. Sicuramente il Castrovillari non è il Castrovillari dell'inizio della stagione, ma è un Castrovillari uscito dal mercato di dicembre rinforzato, quindi una buona squadra che oggi ha fatto un'ottima partita e ha meritato di vincere. E quindi non possiamo che fare i loro complimenti. Per quanto ci riguarda, noi dobbiamo fare un bagno di umiltà, perché poi forse con la testa avevamo fatto dei voli un po' pindarici e quindi dobbiamo mettere i piedi ben saldi per terra. La vittoria è amplificata perché è fatta con una squadra importante, come secondo me, e pochi prenderanno punti, quindi per noi vale doppia. Se intesa nella misura in cui gli avversari che comunque ci stanno talonando nella posizione bassa di classifica non vengono a prendere punti. Maria Chiara Sigillò per la C News 24. E allora, alla luce degli ultimi risultati, passiamo subito a dare uno sguardo alla classifica di Serie D. In testa Egea Virtus 38 punti, 35 Cavese, 31 per Rende e Sicula Leonzio, 29 punti per il Pomigliano, segue a 27 punti il Gela, 25 punti per la Frattese e per Turris, 24 Gladiator, 23 San Cataldese e Palmese, 18 punti per il Gragnano, 17 per Roccella, Aversa Normanna, Sarnese, 12 punti per il Castobilleri, 10 punti per il Due Torri, appena 5 punti per il Sersale, che quindi è ultimo. Allora, non ci sono aggiornamenti, mi fermo qui. Grazie per l'attenzione, rimanete sul C. Tra poco il consueto WhatsApp del direttore, e poi i fatti in diretta dedicati al voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Vibo Valencia. Arrivederci. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. Grazie per la visione!